Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Perché è distribuito dagli UD doors che comunque hanno fatto tanti altri giochi. È un gioco che adesso, tra cui anche Manor Lords, ad esempio, Against the Storm, insomma ne hanno distribuiti, ne stanno distribuendo tantissimi. Ora andremo a vedere subito dopo quello che succede, il primo tutorial, cioè quindi ho già superato il tutorial base. E praticamente la meccanica è un po' alla Tower Defense in questo momento, dove abbiamo queste unità e abbiamo l'unità principale, l'eroe. Ma in realtà i livelli, che comunque noi possiamo far ruotare la visuale, muoverla col mouse normalmente, zoomarla, andare in modalità tattica, abbiamo modo di costruire, con un menu che adesso non vediamo, delle scale, delle strutture, comprese le mura. Questo lo si fa a scopo difensivo, ma anche con lo scopo di superare delle zone inaccessibili in natura. Ora, mi hanno fatto mettere gli arcieri qua in alto. Gli arcieri, se io clicco, posso andare cliccando con il destro a spostarli. In automatico attaccano a distanza. La particolarità è che queste sono tutte unità uguali, ma qualora ci trovassimo di fronte ad altre unità, ognuna ha, con questo rombetto qua in alto diamantino, ha una peculiarità. In questo caso queste attaccano con maggiore efficienza, facendo un critico maggiore, una percentuale di critico maggiore, se sono 5 metri o di più sopra il bersaglio. Altre unità attaccano molto meglio a livello del terreno o dal basso verso l'alto, ma quello non l'ho ancora visto in realtà. Sicuramente sì a livello del terreno. In questo caso noi stiamo andando bene. E qua in alto vedete che c'è questa bussola e anche il trascorrere del giorno, quindi siamo passati alla notte e la notte stanno attaccando queste caricature, che sono i vermin, l'ondata. E quindi loro stanno attaccando. Io adesso il tutorial mi li ho fatti mandare tutti qua, ma in realtà io ne ho presi due, li ho messi di qua in modo da coprire meglio la zona. Ora, non so cosa succederà, come andrà avanti il tutorial, però è in inglese, di facile comprensione, devo dire. Abbiamo, con due unità, abbiamo inseguito questa donna qui, che lei è un'unità particolare perché è l'unica in grado di padroneggiare le arti, quindi di lanciare magie. E l'abbiamo dovuta inseguire attraverso una foresta, costruendo dei supporti, dei ponteggi, per poter superare le zone più ostiche. Il mondo verse in condizioni, il gioco si chiama cataclismo, quindi direi che non verse in buone condizioni il mondo. Lei è Lady Eris. Costruiamo un altro stato difensivo qui. E il tutorial ora ci sta guidando su come costruire. Più mura, è vero che siamo pieni di pietra, ma ora ci sta spiegando. Vedete qua abbiamo due unità, due layer, abbiamo il legno e la pietra. E lui ci sta spiegando come costruire questa struttura, questo muro. Possiamo andare a demolire e ricostruire quante volte vogliamo. E nelle fasi esplorative, noi muovendo i nostri eroi, possiamo andare a raccogliere delle risorse in dei mucchi che troviamo in giro per la mappa. Quindi vedete che qua, non ho neanche letto, le pietre più alte hanno più vita e durano di più sotto attacco. Le pietre... il muro alto, più alto. Ok. Praticamente sì, ci dice che in base alla forma che gli diamo, insomma, il muro è più o meno resistente. Ora dobbiamo costruire un muro di 45, quindi noi adesso lo costruiamo. Vedete, posso trascinare, posso andare a piazzarle così, così vado a impedire ulteriormente... Quello del tempo in pausa, non... Ah, ok, perché possono anche collassare i... Ah, ma pensate... Ah, che bello. Qui non lo... non lo farà. Vedete che sta collassando, ma se io metto in pausa non crollerà. La cosa che voglio fare adesso è vedere se effettivamente è così. Sarà così, non ho motivo di dubitarne, ma... Vedete che collassa. Quindi io adesso posso annullare, sì, CTRL X funziona, direi. Allora, vediamo di ricostruire quello che abbiamo demolito e facciamo il spazio, pausa, demolisco. Dovrebbe darmi... No, perché no? Non possono viaggiare attraverso le porte. Io posso piazzare una porta qui e poi vado a continuare la costruzione magari un pochino più... Ok, no, non funziona come mi ha detto, ma vabbè, io faccio poi come ce lo voglio. Ci sono anche dei ponti, delle altre cose. Adesso io quanti... Ha quattro pezzi ancora. Io investirei su queste zone qua. Eh sì, ciao. Ok, abbiamo costruito un muro. I pezzi tattici sono pezzi speciali che provvedono dei benefici alle strutture difensive unità. Ognuno ha dei differenti effetti. Prova diversi combinandoli, insomma, in modo intelligente. Piazza il tuo pezzo tattico in modo intelligente, insomma, in modo che le tue unità possano stare vicine e guadagnare benefici durante la battaglia. La merlatura, in pratica. Ah, ok. E che poi, tra l'altro, per farli salire dovrò creargli delle scale. E quindi... Perché dovranno andare lì. Quindi dice di piazzare Merlons in area. La merlatura, giustamente. Merlons. I Merlons sono qui. Viva i Merlons. Allora, lo facciamo... C'è la fisica, quindi non è che si può... Ok, no, qua penso che non ci siano problemi. Piazziamo questi. Ne ho sei da piazzare. Li metto lì. Ok, devo mettere anche i banner. Qui. Ah, fa damage boost. Ok, bella questa cosa. Quindi cosa devo fare? Ok, sono arrivati... Mi stavo appunto chiedendo dei rinforzi. La città manda materiali da costruzione e più truppe. Ok, quindi sta per andare giù il sole. Quindi selezioniamo le unità. Ci posso, sì. Tascinando posso selezionare più unità. E posso left click e uno per crearsi come in Total War. Perfetto. Molto bella questa cosa. Cioè, niente di innovativo. Ma io adesso esco da questa modalità. Faccio così. Control 1. E li mando giù. Eh, però il... Il problema... Allora, il gioco non me l'ha detto. Però io lo faccio lo stesso. Allora, facciamo così. Vedete, potete fare anche le scale a chiocciola, ma... Chi se ne frega. Io voglio fare... Vediamo se abbiamo abbastanza pezzi per farlo. Allora, una scala. Per andare su. Allora, devo... Mettendo in pausa. Uno, due, tre. Se io facessi così. 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 Ci piace un'altra scala anche qui. Poi dobbiamo fare questo. Più un altro. Fermi tutti. Mettete in pausa. Per Diana. Allora. Ok. E così. Oh, ok. Fatto. Quindi adesso loro possono andare su. Allora, esco. Andate su. Ok. Però non possono andare dietro la merlatura. Quindi è un bel problema questo. Quindi vediamo se riusciamo a piazzare qualcosa qui. Ma penso di sì. Perché se noi piazziamo questi rinforzi così... Così risparmiamo anche pezzi. Facciamo questa cosa qua. Uno, uno. Così. Così. E questo ce lo mettiamo così. Ok. E tecnicamente... Perché state andando fuori? Scusami. Vai su un che tu va. Lui non va? Perché non va? Chiudi la porta. Vabbè. Lui vedete che ha già una caratteristica diversa perché è un low ground unit. Quindi lui attacca a 4 metri o meno. Quindi deve stare sopra ma non così tanto. Lui non sale. Non ha intenzione di salire. Questi qui... Non potete andare qua dietro, grazie. Lui va su. Sì, dai. Sì. Dovrebbe andare. Ok. Abbiamo le difese perché tra l'altro... Sono un pirla perché c'è il puntino rosso che praticamente ci dice da dove arriverà l'attacco. Io non amo i tower defense. Ma messi in questo modo, come mi era già capitato Diplomacy is not an option, che è un gioco che a me è piaciuto tantissimo perché cambiava proprio l'ambiente, in questo caso posso dire che lo apprezzo in ugual modo. Merlatura. Ok, qua. Dice resisti all'attacco, noi lo facciamo, ma... Tecnicamente qua dovremmo avere un boost agli attacchi che arrivano e di là siano coperti. Però vorrei mettergli un'altra merlatura anche di... Eh, l'abbiamo finita la merlatura. E' che è sempre festa. Una porta. Ah, in modo da passare attraverso i muri per le unità. Eh, ah, ok. Va bene, niente, non ci interessa. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Sta passando il giorno, sta tramontando il sole, quindi a breve arriveranno i mostri. Quindi noi abbiamo, attenzione però, ci hanno mandato altre unità. Quindi queste unità qui... Vedete che se io ci clicco, ci dà anche il range di attacco. Quella zona verde è la zona dove loro possono attaccare. Io li metterei in merlatura qua sopra. Poi qua in alto c'è questo... Tutti però... Qua in alto c'è questo occhio. Se io premo questo posso vedere all'interno. Perché all'interno vedete che ci sono delle zone. Non è che ci siano dentro tavoli e cose. Però c'è dentro tutta la struttura costruita per arrivare in cima. In modo un po' più logico di come ho fatto io. Ora, tra poco passerà questa zona qui. Arriverà la notte e attaccheranno. E quindi noi abbiamo tre in difesa qui. Da dove arriveranno probabilmente. E ne abbiamo altri sui due terrazzi e sul tetto qui. Compresa Lady Iris. Range booster. Vedete che c'è la range booster. Abbiamo range booster. Vorrei mettere questo. Io ho creato la squadra 1. Che è questa qui. Voglio rifarla. Seleziona tutti. Range 1. Ok. Ok, arrivata la notte. Vedete che è shiftato subito. E ci saranno gli attacchi. Quindi cerchiamo di difenderci. Qua c'è qualcosa che non... Dove state? Che cazzo? Andate qui, per Dio! Attaccate. Allora, vedete che qua c'è però qualcosa che non mi torna. Qua c'è qualcosa di rotto. Perché è danneggiato. Ah, ok. Posso ricostruirlo? Beh, questo lo posso rifare. E tra l'altro vorrei anche... Se dovessero arrivare qui, non gli farò la vita facile. Infatti qua metteremo un muro in modo che si subiscono i colpi di quelli sopra. Andiamo avanti. Vediamo se intanto riescono. Se ce la facciamo. Questo non è proprio il massimo, questo tizio qui, perché avrebbe bisogno di una... Vero Dio, alto 4, però lui attacca meglio a livello del terreno. Intanto di là hanno buttato giù la parete. Totalmente. Io non credo di poter andare a costruire roba. Però intanto li stiamo distraendo. Il problema è che se ci buttano giù queste cose qui, viene giù tutto. Quindi sarà bello da vedere cosa succede. Io non me lo aspettavo totalmente di un gioco fatto così. Mi aspettavo tutt'altro da cataclismo. Quindi... Vabbè, però intanto li osserviamo da qua così vediamo cosa sta succedendo. Dobbiamo sopravvivere alla notte. Allora, infatti qua le stanno prendendo sonoramente, perché stanno attaccando tutti. E qua queste mura li hanno impedito di arrivare subito al portone. Ora, anche questi qui non siamo messi male. Per quanto... Per quanto adesso qui stanno... Io non so se posso costruire qualcosa per aiutarli. Eh no, sono troppo vicini. Non possiamo costruire. È bella sta cosa, perché sennò continuiamo a costruire. E a breve verrà... Non so se reggerà. Forse con solo questo pilastro ce la farà. Intanto qui abbiamo risolto. Non sono riuscito a entrare. Abbiamo vinto anche questa. Perfetto. Avesse ceduto uno o più colonne, cadevano giù tutti, erano morti. O comunque... Non sono fatti per l'attacco corpo a corpo. E non so se ci siano unità corpo a corpo. E intanto la storia va avanti. Quindi diventa una sorta di Tower Defense in questo caso. Molto bello per me che odio i Tower Defense. A me... Io mi sono divertito. Ma anche dei puzzle game, perché all'inizio il tutorial, ma credo si ripresenterà anche durante l'avventura. Prenderemo delle unità dei personaggi principali, li muoveremo all'interno di un ambiente. Arriveremo in dei punti dove ci sono dei nemici e dobbiamo attaccarli furtivamente. E dobbiamo anche costruire delle scale o dei ponti per attraversare dei burroni. Questo è un altro disegnato, comunque disegni carini. È un gioco che sembra avere anche parecchio carattere. Ovviamente in early access, quindi, è completamente giocabile. Ma la campagna è in lavorazione, come ho detto. Ci resterà un anno o più, dipende un po' dal feedback degli utenti. E quindi il prezzo di conseguenza potrà anche aumentare rispetto a quello dell'uscita. Quindi quello al momento non ve lo so dire. Però secondo me è un gioco assolutamente promettente. Quando l'avevo visto la prima volta, uscirà Cataclismo 2024, non mi aveva detto nulla. Ma devo dire che è piuttosto originale. Mi ricorda anche un altro gioco. Non mi ricordo, mannaggia come si chiama. Si chiamava Castle Qualcosa. Dove si costruivano con gli omini gialli i castelli. Che quello è un gioco che erano stravolto completamente negli anni. Ma non mi ricordo. Beh, non voglio poi tediarvi. Adesso tengo premuto, così andiamo avanti. Vediamo. E qua parte una mappa di gioco. Sì, dovremmo essere fuori dal tutorial. Saltiamo anche questo, così vediamo subito dove ci porta. Perché la storia al momento non interessa. E si va avanti. Questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto e ora The Forest Garrison. La guarnigione. Difficoltà che possiamo scegliere. Ok. E qua ci porta a fare un'altra cosa. Ci porta a fare un tutorial dell'economia del villaggio. Quindi non è finita qui perché pensavamo di aver visto tutto. Ma in realtà non è così. Queste sono le persone che guidiamo all'inizio del tutorial. Non avrei mai pensato che questo posto cadesse. Quello che cade può ricrescere, insomma, riformarsi. La cittadella è il cuore della cittadella e questo non deve cadere. All'interno contiene le unità, le risorse naturali come il legno e servono a costruire la tua fortezza. L'insegnamento ha bisogno di altri edifici per crescere. Come? E qua cambia già ancora una volta tutto perché Tower Defense gioco di puzzle ambientale e strategico. Perché comunque qua, sì, questo l'avevo visto nei tutorial, si possono costruire gli edifici. Quindi il legno è le fondamenta dell'economia. costruisci una segheria per ottenere un continuo rifornimento di legname. Quindi adesso, a resource gathering, piazziamo una... Questa la possiamo mettere qui. Ma mi dice dove devo metterla o posso metterla dove voglio? Qua. La costruzione potrebbe richiedere... Potrebbe richiederà sicuramente un momento. Allora, tutti gli edifici hanno bisogno di un percorso aperto per la tua cittadella. Se la strada è ostruita, si spegne in un'opera, diciamo... E infatti qua direi che è il caso perché non arriva niente alla cittadella. Quindi dobbiamo liberare il passaggio. Gli edifici cercheranno in automatico una strada e poi... Ma non so se posso passare... Qua è un muro, chiaramente. Dovrei costruire... Qua vedete che è un assaggio di quello che ho visto. Blueprint con anche il workshop. Crea nuovo. Ah, sì, perché possiamo creare le cose già costruite. Allora, aspettate un po'. Prima che arrivi la notte. E vedete che non arriva. Ok, se facessi una sorta di... Non lo so. Vediamo se si può fare la scala a chiocciola. Perché c'era un modo... Eh no. Mannaggia, con la X demolite. No, però se io piazzassi questo... Allora, aspettate un po'. Metto questo. Metto ancora questo. Ah, è un pezzo unico. Ok, posso farlo anche con un pezzo unico. Quindi questo. Poi gli metto questo. E sto praticamente usando legno. Non è questo, ma non lo so. Io... Così? Oddio, potrei anche girarlo dall'altra parte. Ok. Per forza. Non ho pietra, ma... Adesso abbiamo praticamente il percorso. Perché? Perché ci piazza una scala qui, il percorso dovrebbe essere pronto. O no? No, perché non è agibile quella parte lì. Mannaggia la bestia. Però, 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 se io faccio il blueprint, create new e prendo questo, tutto questo, finish blueprint, lo piazzo. Eh, 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 bello. Lo piazzo lì. Il cacchio. Perché lo demolisco. No, 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 no. Lo demolisco. E lo ripiazzo. Aspettate che lo demolisco del tutto qui. E vediamo se riesco a ripiazzarlo lì qua. Blueprint. Blueprint, bella sta cosa. Veramente molto bella. Qua. No, continuo a sbagliare. Perché? E poi bello perché apre comunque una bella, bella porta. Metto in modalità mappa, così vediamo se... Eh, no, è un po' inagibile. Ah, un po' troppo lontana, più che altro. Se lo piazzassi... Ah, perché siamo più bassi? Eh, eh... Qui, così. Eh, sì. Però, però, forse ce la ne usciamo lo stesso. Perché se io metto questo qui... E infatti... Ok, ora possiamo raccogliere il legno. In automatico vanno a raccogliere il legno. Spawna lavoratori per portare il legno. In automatico e raccogliamo il legno. Che vediamo qua in alto. Ora abbiamo bisogno di cittadini, senza supporto di cittadini. Ok, dobbiamo costruire ora l'housing citizen. E quindi praticamente si sta andando a costruire altre cose. Quindi andiamo qui. Essential. Ci chiederà sicuramente... Quante? Tre? Sì, sì, sì. Mi sta dicendo poi a riciclare anche le... Ok, mettiamole a cacchio. Eh, sì. Acceleriamo tanto. Le costruiscono. Ecco abbiamo... Oxygen. Che è incluso in questo caso. E legno. Ok. Prima costruita. Dobbiamo farne 3. Poi ci sarà la raccolta anche della pietra, credo. La cittadella genera un piccolo quantitativo di ossigeno, ma hai bisogno di costruire il filtro dell'aria per ottimizzarlo. Va bene. Quindi lo costruiremo qua. Raw materials, nof, e air filtering. Dove lo possiamo costruire? In un percorso chiaro per la cittadella, quindi. Not an out space. Non abbiamo spazio, l'ho messo troppo a cacchio. Mannaggia me. No, forse me lo dava qua. Qui. Su una casa. Bene, dai. È molto vario. Potrebbe essere... Uscirà comunque in 1.0 l'anno prossimo. Però sembra già parecchio godibile. Posso ipotizzare, se lo trovate sui 20 euro, un affarone. Perché è già comunque bello. Ho detto, l'inglese non è un gran problema in questo gioco. Ok. Sì, vabbè, gli manca un percorso per la città. E questo è segno che ho organizzato veramente molto male io le cose. Ma ormai sto iniziando... Vite qua, non avete un limite perché vi scala il legno direttamente. Due pezzi di legno ogni. Perfetto. Abbiamo ancora lavoro da fare. Ci sarà la difesa adesso della cittadella. Quindi arriveranno da lì queste due creature qui. Non credo arrivi... Ah, no, anche da qua. Quindi bisognerà prima della notte... Anzi, prima della notte un par di balle perché arrivano adesso. Perché è già notte. Bisognerà costruire le mura. Soprattutto qua ce lo sta suggerendo. In legno. E difendere magari mandando anche all'interno del castello le creature. Anche se in realtà si attaccano solo in tre, in due. E di qua quante? In due, due, quattro. Abbiamo questi tre che sono alla fine Iris, Hogar Lobber e Hogar Bowman. Che sono due peoni che ci accompagnano. Vedete che qua lo specifica high ground 5 metri o più. Low ground da 0 a 4. Quindi lui attacca bene in linea retta senza essere in alto. Lei invece usa per la scuola. Quindi usa la perla che diciamo è un tipo di arte magica. E niente ragazzi. Questo è Cataclismo. Io comunque me lo salverò perché comunque... Cioè me lo salverò nella partita. Spero si salvi perché è molto interessante. Sto giocando una preview prima dell'uscita. E vi dico, non so che prezzo possa avere. 19 potrebbe valerli tranquillamente. Tutti in previsione dell'early access. Perché secondo me un gioco così uscito in 1.0 con queste premesse, con questo tipo di gameplay, può arrivare anche a costare 35 euro secondo me. Quindi 19. Se esce a meno 9.99 dubito seriamente. Ma se fosse o anche 14.99 veramente valutatelo. Tenete conto appunto che io odio i Tower Defense perché non mi piacciono. Ma con questo tipo di gestione, con questo tipo di costruzione e di tattica e di puzzle game mi ha davvero colpito. E mi è piaciuto. Quindi attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Vi saluto, vi ringrazio e ovviamente appuntamento al prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao.